Amici di Canale 48, buonasera. Ci troviamo in una villa alla periferia di Firenze. Siamo venuti qui per incontrare l'On. Giorgio Almirante. Dati gli impegni che attendono Almirante in serata, l'abbiamo registrata e la manderemo in onda fra un'ora e mezzo circa. Se non penso che nessun altro ostacolo avrebbe impedito l'On. Giorgio Almirante venire davanti alla nostra telecamere nel nostro studio. Onorevole, io la ringrazio per il tempo che lei ci concederà. Sarà un'intervista abbastanza breve, non dipende da me, questo dipenderà da lei. Ancora una volta le ripeto che sarà messa in onda in serata e quindi i vostri lettori e gli amici di Canale 48 potranno seguirla.